Ciao Ikers, e oggi non ho belle notizie. Anche quest'inverno, anzi, dopo un lungo inverno nel quale non potevo camminare per via della neve, per via di tutta una serie di cose, non avevo la mia valvola di sfogo, il mio benessere, il mio, la mia casa. Purtroppo in un momento di debolezza, cosa volete farci? Sono caduto in tentazione e mi sono dato all'alcol! Bene ragazzi, chiudiamo questo teatrino trash e passiamo a quello che è il contenuto di questo video. Questo video sarà la storia di come sono passato dal gas all'alcol. Prima di iniziare però una doverosa precisazione, tutto quello che dirò in questo video sarà da riferirsi in maniera molto specifica al mio sistema fornello, quindi il mio, la mia tipologia di fornello ad alcol, perché ce ne sono tante, il mio antivento e il mio campo di applicazione, che è quello del trekking a lunga percorrenza, che non è quello, ad esempio, dell'alpinismo. Detto questo, un po' di storia. Io ho finora sempre utilizzato fornelli a gas. Sono partito con un MSR Pocket Rocket, un ottimo fornello, anche se un po' pesante. Sono passato poi al BRS 3000T. Credo sia il fornello a gas più leggero al mondo. È in titanio, pesa 25 grammi e tra l'altro è anche un fornello molto molto economico. Ecco, se devo dire un difetto di quel fornello è il fatto che, essendo molto piccolo, hanno dovuto lesinare sulle dimensioni delle braccia del fornello e quindi bisogna stare molto attenti quando ci si mette sopra il pentolino, perché è molto facile, cioè chiunque prima o dopo ribalta il pentolino, la sua cena. Come dicevo, questi fornelli a gas sono molto comodi, scaldano molto, scaldano subito, pronti all'uso, anche col vento se la cavano abbastanza bene. Però c'è il problema delle bombole. Le bombole che non si trovano da acquistare ovunque, non si capisce mai bene sul campo quanto gas abbiamo ancora all'interno della bombola e inoltre poi ci troviamo a casa con tutta questa serie di imballaggi alla fine che tendenzialmente non sappiamo dove buttare. È vero, sì, ci svuotano completamente, poi ci si fa il buco con l'avvitatore e poi si possono buttare nel riciclaggio dei metalli. Tuttavia una trafila insomma un po' un po' laboriosa. A ogni modo se si parlava di fornello in passato io pensavo subito al fornello a gas. Ormai qualche anno fa un amico del canale, Paiolo, tra l'altro Paiolo ti saluto, mi ha regalato un fornello ad alcol che ho qui, in pratica è qui dentro. In pratica è un semplicissimo barattolino di quelli delle creme, all'interno c'è della lana di roccia e con l'alcol si va a imbibire, 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 inzuppare la lana di roccia e poi si dà direttamente fuoco alla lana di roccia che non brucia perché di nuovo è lana di roccia. Questo sistema appunto mi è parso fin da subito molto figo ma mi è anche parso fin da subito che ci fossero delle grandissime criticità dal punto di vista dell'utilizzo in caso di vento, ma non necessariamente vento, anche una lieve brezza, anche un alito di vento. Paiolo proponeva un sistema antivento con dell'alluminio, tuttavia io ero ancora molto legato al gas e non mi sembrava una soluzione abbastanza diciamo comoda e pronta all'uso. Ho continuato perciò a utilizzare il mio classico fornello a gas. Un anno fa circa però ho fatto un bivacco con un amico che non vedevo da tanto che è Danilo, saluto anche lui, e lui aveva un oggettino molto molto interessante che era questo. Questo oggettino qua è un semplice foglio in titanio che una volta srotolato e bloccato appunto a cerchio ha esattamente lo stesso diametro del mio pentolino. Attenzione del mio pentolino. Il brand infatti che produce questo foglio di titanio che si chiama Vesuv produce degli antivento specifici per ogni pentolino o meglio per determinati brand di pentolini. Al momento se non sbaglio li produce solo per Evernue e Tox. Appena ho visto questo sistema mi sono detto ah ok questo è potenzialmente la svolta perché risolve tutti quei problemi un po' di goffaggine, chiamiamoli così, legati all'antivento che non sai mai come piazzare, al pentolino che necessita di un supporto e così via. Perché questo antivento è anche supporto del pentolino. Quindi intanto fa un egregio lavoro per quanto riguarda il proteggere la fiamma dal vento ma poi crea un supporto ampissimo nel senso che ha lo stesso diametro del pentolino, crea quindi questo grande supporto super stabile per il pentolino. Ecco che in questo modo risolve i problemi del vento e risolve anche i problemi di stabilità che il fornello a gas ha. Per quanto riguarda il vento io l'ho provato in condizioni di vento forte e vi dico veramente vento forte e si cucina senza problemi, porta a bollore l'acqua senza problemi. È dotato appunto di fori di areazione che consentono sì il ricambio d'aria, la reazione per 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 la reazione di combustione. Però limitano veramente di molto l'ingresso del del vento nella non so chiamiamo la camera di combustione. Dal punto di vista della performance ovviamente il discorso è specifico per questo fornello ad alcol. Comparandolo con i fornelli a gas ci impiega direi circa il doppio a portare a bollore lo stesso volume d'acqua. Però prendete con le pinze quello che vi sto dicendo, io veramente con i numeri sono pessimo. Vi lascio poi in descrizione tutto il materiale che il buon paiolo ha messo a disposizione gratuitamente a tutti perché in pratica ha creato una guida per potersi autocostruire questo questo fornelletto qua e anche una guida per quanto riguarda un un suo antivento e un suo supporto per il pentolino. Ma poi trovate tutte le informazioni appunto diciamo numeriche per quanto riguarda il tempo di evolizione e così via. quindi avete capito che questa cosa qua, questo sistema qua mi piace veramente tanto. Ma al di là del fatto che è un sistema che funziona molto bene, che protegge bene dal vento, che rende il pentolino molto stabile, mi piace anche a livello di... lo trovo un sistema abbastanza poetico perché richiede un minimo di preparazione della nostra piccola cucina, no? Lo montiamo, lo assembliamo e poi iniziamo a cucinare e poi è silenziosissimo. Quanto fastidio dà la sera quando siamo al campo sentire tutti questi fornelli che vanno in una stecca che soffiano come dei draghi. Ecco questo qua è una combustione che è completamente silenziosa. Dopodiché per quanto riguarda il peso il fornellino è veramente super leggero e anche l'antivento ha un peso irrisorio. Certo è vero, dobbiamo portarci poi il nostro serbatoio, però possiamo in realtà una volta che conosciamo quanto volume di alcol ci vuole per le bolliture e quante bolliture andremo a fare nella nostra escursione, possiamo dosare il nostro serbatoio e non dobbiamo portarci dietro tutte queste bombolette che non sappiamo con precisione quanti... quante bolliture ci permetteranno di fare. Come vi dicevo con l'alcol anche a livello di rifiuti se ne fa molto meno, perché con una bottiglia appunto da un litro c'è veramente bisogna bisogna cucinare per consumarla tutta. E in più c'è da dire che l'alcol si trova in ogni 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 minimarket, anche del paese più sperduto, nella valletta più sperduta, noi troviamo un minimarket minuscolo e l'alcol tendenzialmente c'è. La stessa cosa non si può certo dire per per le bombole. Ah ragazzi, dettaglio assolutamente non trascurabile, l'alcol è infinitamente più economico rispetto alle bombolette di gas. Dopo questa lunga e spero convincente marchetta riguardo un prodotto che comunque mi sono dovuto acquistare, volevo parlarvi di direi l'unico vero potenziale difetto che ho trovato che sta nel sistema di blocco del foglio in titanio. Vedete queste queste clip? Sono le classiche clip delle delle camicie. Siccome il foglio in titanio è molto molto sottile e queste questi bottoncini sono veramente forti, si dice, sono veramente tenaci, ecco che dobbiamo fare molta 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 attenzione quando li sganciamo, perché se lo facciamo una volta due, cinque, dieci, venti rischiamo di lesionare il titanio, il foglio di titanio, tagliare il foglio di titanio e quindi rendere inutilizzabile l'antivento. Tuttavia c'è un trucco, io infilo semplicemente il mio, il manico del cucchiaio tra i due bottoncini, o meglio tra il bottoncino maschio e il bottoncino femmina, faccio leva e in questo modo i bottoncini si aprono con facilità senza sollecitare assolutamente in alcun modo il foglio in titanio. Dopodiché c'è un'altra cosa che ci tengo a dirvi che non è un difetto, bensì una precauzione. Stiamo lavorando con alcol, ok? Con una sostanza che è altamente infiammabile. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti alla fase di riempimento del vasetto. Non è che possiamo riempirlo e far sì che strabordi, soprattutto se ci troviamo in un contesto magari dove c'è un substrato molto secco e potenzialmente infiammabile, perché sono potenzialmente guai seri, ok? Questo in realtà, questo di paiolo con l'interno in lana di roccia, è un, diciamo che è un sistema di fornello ad alcol che è un passo avanti, sicuramente più sicuro rispetto ai classici fornelli ad alcol vuoti, dove tu semplicemente metti l'alcol dentro e poi dai fuoco all'alcol, ma se tu lo urti esce il liquido infiammabile infiammato ovunque. Ecco, con questo per via di questa spugna in lana di roccia non succede, o meglio, il fatto che ci sia questa spugna diciamo che ci perdona parecchio un po' gli errori. Quindi se andiamo a urtarlo leggermente o se lo pieghiamo e poi lo rimettiamo velocemente in posizione, l'alcol tendenzialmente non esce perché è trattenuto dalla spugna, dalla lana di roccia. Però ecco, doveroso fare molta più attenzione coi fornelli ad alcol rispetto ai fornelli a gas che, bene o male, sono molto più relativamente innocui. Bene ragazzi, mi sono tolto un peso, siamo arrivati alla fine anche di questo video, mi sono tolto un peso perché ora il mondo sa apertamente che sono un alcolista. Detto questo, ci tengo a precisare di nuovo che tutto ciò che ho detto in questo video è da riferirsi al mio sistema di fornello ad alcol. Quindi il fornello ad alcol che vi ho mostrato abbinato con il windscreen della Vesuv e il mio pentolino, ok? Questa è la combo. Ci saranno sicuramente altri sistemi ad alcol e altri antivento validi, però io parlo di questo che ho provato, sto provando e mi convince davvero davvero tanto. Vi lascio in descrizione il link al sito di Paiolo dove vi spiega, è proprio una guida dove vi spiega come costruire il vostro fornello ad alcol e il supporto per il pentolino e trovate un sacco di dati sul tempo di bollitura, sul quanto alcol serve per una bollitura e così via. Vi lascio anche in descrizione il link per l'antivento Vesuv. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi ringrazio anche perché nel frattempo abbiamo passato i 10.000 iscritti qui sul canale, quindi veramente un grazie a ognuno di voi per il supporto e non mi resta che salutarvi e augurarvi buone cene al campo con un bel fornello ad alcol. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao hikers! Ciao!